Il problema è un troppo grosso perché abbiamo già provveduto con il sindaco a fare l'ordinanza sindacale di chiusura del ponte, quindi i cittadini dovranno usire delle altre aree antiche che esistevano tempo fa e stiamo aspettando l'autostrada che ci convocchi per ulteriori informazioni su questo tragico evento. Purtroppo avranno questo disagio che questa è una strada principale sia per gli abitanti di Aurivola, Pozza, Cittadella e passano per l'altra arteria che non è tanto buona come questa qua. Inizialmente abbiamo anche le frazioni del comune vicino di Carbonara, di Teano che usufruiscono sempre questa strada perché è una scorciatoria per loro come raggiungimento del grande centro sia di Vairano e di Reinello.